Oroscopo del giorno per cani e gatti, 25 maggio 2024. Scopri il destino del tuo pet. Oroscopo del giorno per cani, 25 maggio 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Oggi il tuo cane Ariete sarà particolarmente energico e avrà bisogno di sfogare la sua vivacità. Una lunga passeggiata al parco o una sessione di gioco con la palla sarà perfetta per lui. Assicurati di dedicare del tempo extra per attività fisiche e non dimenticare di premiarlo con qualche snack. Toro, 20 aprile, 20 maggio. Il tuo cane Toro oggi preferirà un ambiente tranquillo e rilassante. Crea un angolo accogliente con coperte e cuscini dove possa riposare. Passa del tempo a coccolarlo e a rassicurarlo. Un piccolo snack delizioso renderà la sua giornata ancora più speciale. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Il tuo cane Gemelli sarà molto curioso e desideroso di esplorare oggi. Introduci nuovi giochi interattivi o fai una breve escursione in una nuova zona. La stimolazione mentale e fisica lo terrà felice e impegnato. Invita qualche amico con cani per una play date e lascialo socializzare. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Oggi il tuo cane Cancro avrà bisogno di sentirsi amato e coccolato. Dedica del tempo alle coccole e alle carezze. Creare un ambiente tranquillo e sicuro sarà molto apprezzato. Trascorrere del tempo insieme rafforzerà il vostro legame e lo farà sentire protetto. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il tuo cane Leone adorerà essere al centro dell'attenzione oggi. Godrà di essere ammirato e lodato. Quindi dedica del tempo a giocare con lui e a fargli sentire quanto è speciale. Potrebbe apprezzare un nuovo giocattolo o un accessorio che metta in risalto la sua regalità. Vergine, 23 agosto, 22 settembre. Il tuo cane Vergine sarà molto attento ai dettagli oggi. Approfitta di questa giornata per fare un po' di addestramento o per insegnargli nuovi trucchi. La sua mente analitica sarà particolarmente ricettiva. Usa rinforzi positivi come premi e lodi per motivarlo e rendere l'addestramento un'esperienza piacevole. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Il tuo cane Bilancia desidererà armonia e bellezza intorno a lui. Crea un ambiente piacevole e ben decorato. Potrebbe apprezzare un nuovo accessorio per il suo angolo preferito. Trascorrere del tempo insieme, magari facendogli delle carezze mentre ascoltate musica rilassante, gli darà un senso di pace e serenità. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Oggi il tuo cane Scorpione potrebbe voler ritirarsi un po' e avere del tempo per se stesso. Rispetta il suo bisogno di indipendenza e offrigli uno spazio tranquillo dove può rilassarsi senza essere disturbato. Un angolo nascosto o un posto alto da cui osservare la casa sarà perfetto per lui. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Il tuo cane Sagittario sarà avventuroso e curioso oggi. Favorisci la sua voglia di esplorare con nuovi giochi o posti da scoprire. Potresti creare un percorso con scatole e tunnel in casa o, se possibile, permettergli di esplorare una zona sicura all'aperto. Questo stimolerà la sua curiosità e lo terrà felice e impegnato. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Il tuo cane Capricorno sarà determinato e focalizzato sulle sue attività oggi. Se stai insegnando qualcosa di nuovo. Oggi è il giorno giusto per fare progressi. Usa rinforzi positivi come premi e lodi per motivarlo ulteriormente. La sua concentrazione sarà alta, rendendolo particolarmente ricettivo agli insegnamenti. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. Oggi il tuo cane Acquario apprezzerà nuove esperienze e attività originali. Introduci un nuovo giocattolo o una nuova attività per stimolare la sua mente. Potresti creare un gioco interattivo o organizzare una piccola caccia al tesoro in casa. Questo lo terrà impegnato e soddisfatto. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. Sensibili e sognatori, i cani pesci oggi apprezzeranno la calma e la tranquillità. Crea un ambiente sereno con luci soffuse e musica dolce. Potete dedicare del tempo a fare un bagno rilassante, se al tuo cane piace l'acqua. La serenità dell'ambiente lo farà sentire al sicuro e felice. Oroscopo del giorno per gatti. 25 maggio 2024. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Il tuo gatto Ariete sarà pieno di energia oggi. Organizza sessioni di gioco attive con giocattoli interattivi come piume o laser. Questo aiuterà a sfogare la sua vivacità in modo positivo. Premialo con snack gustosi dopo il gioco per mantenerlo motivato e felice. Toro, 20 aprile, 20 maggio. Il tuo gatto toro cercherà comfort e tranquillità oggi. Crea un angolo accogliente con una coperta morbida o un letto confortevole. Trascorrere del tempo a coccolarlo e a carezzarlo mentre si rilassa renderà la sua giornata perfetta. Un po' di tempo tranquillo insieme rafforzerà il vostro legame. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Il tuo gatto gemelli sarà curioso e desideroso di nuove esperienze oggi. Introduci nuovi giochi interattivi o organizza una caccia al tesoro in casa. La stimolazione mentale lo terrà occupato e felice. Invita qualche amico con gatti per una playdate. Così potrà socializzare e divertirsi. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Oggi il tuo gatto cancro avrà bisogno di sentirsi amato e protetto. Dedica del tempo alle coccole e alle rassicurazioni. Un ambiente tranquillo e sicuro sarà molto apprezzato. Trascorrere del tempo insieme rafforzerà il vostro legame e gli darà la sicurezza di cui ha bisogno. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il tuo gatto leone amerà essere al centro dell'attenzione oggi. Godrà di essere ammirato e lodato. Quindi dedica del tempo a giocare con lui e a fargli sentire quanto è speciale. Potrebbe apprezzare un nuovo accessorio o un gioco che metta in risalto la sua regalità. Vergine, 23 agosto, 22 settembre. Il tuo gatto vergine sarà molto attento ai dettagli oggi. Approfitta di questa giornata per introdurre nuovi giochi di abilità o puzzle. La sua mente analitica sarà particolarmente ricettiva. Usa rinforzi positivi come premi e lodi per motivarlo e rendergli l'attività piacevole. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Il tuo gatto bilancia desidererà armonia e bellezza intorno a lui. Crea un ambiente piacevole e ben decorato. Potrebbe apprezzare un nuovo accessorio per il suo angolo preferito. Trascorrere del tempo insieme, magari facendogli delle carezze mentre ascoltate musica rilassante, gli darà un senso di pace e serenità. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Oggi il tuo gatto scorpione potrebbe voler ritirarsi un po' e avere del tempo per se stesso. Rispetta il suo bisogno di indipendenza e offrgli uno spazio tranquillo dove può rilassarsi senza essere disturbato. Un angolo nascosto o un posto alto da cui osservare la casa sarà perfetto per lui. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Il tuo gatto sagittario sarà avventuroso e curioso oggi. Favorisci la sua voglia di esplorare con nuovi giochi o posti da scoprire. Potresti creare un percorso con scatole e tunnel in casa o, se possibile, permettergli di esplorare una zona sicura all'aperto. Questo stimolerà la sua curiosità e lo terrà felice e impegnato. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Il tuo gatto capricorno sarà determinato e focalizzato sulle sue attività oggi. Se stai insegnando qualcosa di nuovo, oggi è il giorno giusto per fare progressi. Usa rinforzi positivi come premi e lodi per motivarlo ulteriormente. La sua concentrazione sarà alta, rendendolo particolarmente ricettivo agli insegnamenti. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. Oggi il tuo gatto acquario apprezzerà nuove esperienze e attività originali. Introduci un nuovo giocattolo o una nuova attività per stimolare la sua mente. Potresti creare un gioco interattivo o organizzare una piccola caccia al tesoro in casa. Questo lo terrà impegnato e soddisfatto. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. Sensibili e sognatori, i gatti pesci oggi apprezzeranno la calma e la tranquillità. Crea un ambiente sereno con luci soffuse e musica dolce. Potete dedicare del tempo a fare un bagno rilassante, se al tuo gatto piace l'acqua. La serenità dell'ambiente lo farà sentire al sicuro e felice. Grazie per aver seguito l'oroscopo giornaliero per cani e gatti. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Alla prossima, amici!